Ciao amici e bentornati! Oggi prepariamo insieme dei golosissimi muffin con mele, uvette, noci e rum. Questi magnifici e sofficissimi muffin sono perfetti per le vostre colazioni o merende, da accompagnare a una bella tazza di tè, soprattutto in questi freddi pomeriggi d'inverno. Gli ingredienti che ci occorrono sono 300 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, 70 g di noci, 100 ml di olio di semi di girasole, 65 ml di acqua a temperatura ambiente, 3 uova, 70 g di uvetta messa precedentemente a mollo e ben strizzata, una bustina di lievito per dolci, 2 fialette di aroma rum, 2 mele piccole, un pizzico di sale, mettiamo nella nostra planetaria le uova con lo zucchero e mescoliamo per qualche minuto fino ad ottenere un impasto chiaro e spumoso. Aggiungiamo le due fialette di aroma rum, poi poco alla volta l'acqua e l'olio di semi di girasole, mescoliamo piano. Mescoliamo poi tutte le polveri, ovvero la farina, il lievito e un pizzico di sale e andiamo ad aggiungere gradualmente al nostro impasto liquido. Aggiungiamo infine le nostre noci tagliate a pezzetti, le mele tagliate a cubetti e l'uvetta ben strizzata. Prepariamo 12 pirottini nella nostra teglia per maffi, in realtà con le dosi che vi ho dato ve ne usciranno ben 16. Pre-riscaldiamo il nostro forno statico a 180 gradi e inforniamo i nostri muffin a forno già caldo per 20-25 minuti circa. Ed ecco pronti i nostri magnifici e profumatissimi muffin con mele, uvette, noci e rum. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like oppure scrivetemi tantissimi commenti. Noi ci vediamo, alla prossima!